Preparatevi ad immergervi nelle oscure profondità di Terra Amara. Dal 21 al 23 agosto vi aspettano puntate cariche di suspense, intrecciate in un labirinto di emozioni che lascerà i vostri cuori pulsare all'impazzata. Un mistero intricato e drammatico che promette di tenervi incollati allo schermo. Il sipario si apre su un evento sconvolgente, un eco di morte che rimbomba come un tuono nella quieta ciukurova, lasciando un segno indelebile di sgomento. Hunkar Yaman è morta e la sua scomparsa vibra nel cuore della gente come una melodia funesta. Nella villa avvolta dal mistero una figura tormentata, Demir, fa ritorno. Gli occhi ombrosi, un'angoscia inesprimibile che pesa come un macigno sul cuore, l'anima inquieta in cerca di risposte, i pensieri si agitano in un binio d'incertezza. Avrà Zuley ha visto Hunkar. Le domande, un fiume in piena, le risposte, nebbia fitta. L'indagine inizia, la verità è nascosta, ma sarà svelata. Gaffur con il cuore in gola teme di essere scoperto come l'assassino di Atip, ma una luce all'orizzonte, un sospiro di sollievo, un volto illuminato dall'allegria. Non è stato accusato e l'aria si pervade di un breve illusorio gaudio. Tuttavia il destino gioca un tiro beffardo. Hunkar, destinata a sposare e fecheli, è scomparsa come svanita nel nulla, e un'ombra di paura avvolge nuovamente Chukurova. L'ansia monta, la tensione raggiunge un crescendo frenetico. Demir, l'animo in tumulto, chiama ovunque, silenzio, vuoto, disperazione. L'eco della scomparsa di Hunkar risuona nelle strade deserte, un richiamo disperato che grida aiuto, e nel frastuono un barlume di bontà in ospedale. Fikret dona il sangue, salvando una vita. Ma anche questo atto di gentilezza è offuscato dalla tragedia che si annida all'orizzonte. Alla villa l'aria è elettrica, densa di tensione. Anime in pena cercano risposte, il cuore spezzato dall'angoscia. Le preghiere salgono come un canto disperato, un inno alla speranza. Yilmaz fa il suo ingresso, l'inquietudine dipinta negli occhi, una tempesta di emozioni che brulica sotto la superficie. La voce tremante, le parole un filo di vento mentre chiede delle novità. Il volto tormentato di Fekeli lo colpisce, e in un gesto di solidarietà che nasce dalla paura, si unisce al padre nella ricerca. Un figlio al fianco del padre, una collaborazione nata dalla disperazione. Le parole di Fekeli a Demir sono un pugno allo stomaco, un patto scolpito nel cuore. Cercheranno in tutta Ciukurova, scaveranno nei meandri più oscuri fino a trovare Hunkar. Ma il destino gioca una mano crudele, e la villa si riempie di volti grigi, uomini che consegnano a Demir un fular della madre, un reperto trovato tra le rovine antiche. Un brivido scivola lungo la schiena di Demir, un freddo presagio che annuncia una tragedia. La corsa alle rovine diventa una danza frenetica, il cuore batte all'impazzata, il respiro si fa affannato. L'ordine di Demir di cercare dappertutto risuona come un grido disperato. E poi? Il mondo si ferma. Il corpo senza vita della madre giace a terra, un'immagine che gela il sangue, che pietrifica l'anima. Demir si avvicina, il corpo sporco di sangue, si inginocchia ed emette un urlo straziante, un pianto che squarcia il silenzio, un dolore che fa tremare la terra. Intorno, volti sconvolti, anime infrante, un mondo infrantumi. Le parole di Unkar risuonano come un eco lontano, il dolce ricordo di una madre che aveva vissuto solo per suo figlio, dimenticando se stessa. Le promesse d'amore di Fekeli, un legame eterno, una promessa infranta. Unkar viene riportata a casa, adagiata come una regina caduta sul cassone del pick-up. Demir accanto, il volto una maschera di pietra, il cuore spezzato in mille frammenti, i ricordi delle carezze, gli abbracci, le parole dolci della madre che danzano come fantasmi. Gafur e Rashid, sconvolti, piangono in silenzio, un dolore che li avvolge, che li unisce. Alla villa il presagio si fa realtà. Aminè piange inconsolabile, una madre straziata, il volto un mare di lacrime. Poi arriva il corteo funebre, la triste marcia che riporta Unkar alla sua dimora, e il dolore si diffonde come un fuoco incontenibile, un'onda che travolge ogni anima presente. Suleyah, Sagné e tutti coloro che l'hanno amata sono paralizzati dal dolore, pietrificati dall'incredulità. Demir, il volto stravolto, solleva il corpo della madre come una reliquia sacra, le lacrime un fiume in piena, le ultime parole d'amore un eco che lo accompagna nel tragico cammino verso la villa. Il corpo della madre adagiato sul letto, un addio che spezza il cuore, che ferisce l'anima. Suleyah lo osserva, impietrita come una statua, il respiro un velo sottile trattenuto nel petto, mentre Sagné crolla a terra, un giunco spezzato, piangendo come una creatura perduta. Fuori dalla villa, i volti familiari dei dipendenti sono marchiati dal dolore, piangono e pregano per Unkar. La tristezza si è posata su ogni anima come una coltre spessa di dolore, avvolgendo ogni cuore, un gelido abbraccio della morte. Fecheli, Yilmaz e i loro uomini, con l'angoscia dipinta nei loro occhi, cercano Unkar come chi cerca un tesoro perduto. Ma all'improvviso il vento del destino soffia in modo crudele, e arriva Fikret, il volto un libro aperto di tragedia, annunciando la perdita che li ha spezzati. Le condoglianze sono un mero formalismo, parole vuote di fronte all'abisso insondabile della perdita. Fecheli rimane impietrito, lo sguardo un deserto senza fine, il nome di Unkar un grido disperato, una preghiera che si perde nell'aria come un sospiro del vento. Al circolo, dove le voci leggere delle signore sono un canto di vita, la riunione viene interrotta da un'ombra, una notizia agghiacciante che cala come una falce. Hanno ucciso Unkar Yaman, il suo corpo un segreto nascosto dietro un cespuglio. Tutte sono sconvolte, ogni parola si sgretola, inadeguata di fronte a un orrore così incomprensibile, così crudo. E poi Fecheli giunge alla villa Yaman, la vista di Unkar un ricordo vivido che lo colpisce, l'abbraccio un'ombra che lo accompagna verso una realtà troppo dura da affrontare. Le donne sono sedute sulle scale, il volto un paesaggio di lacrime, il dolore un peso che schiaccia. Ma l'immagine più struggente, quella che incide l'anima, è quella di Unkar sdraiata sul letto, Demir al suo fianco, una figura orfana. Fecheli la raggiunge, un abbraccio che è un addio, il passaggio di una stella cadente, una luce che si spegne. Demir si accascia, la disperazione è una lama affilata che lo trafigge. Zulea gli si inginocchia accanto, le mani intrecciate in un gesto di conforto che non basta, non può bastare. Accanto al letto di Unkar, il volto scavato dal dolore, le parole un addio che lacerano l'anima. Il dolore è una forza inarrestabile, più potente dell'amore stesso, lo piega, lo spezza. Un uomo finito. Gulten, appena saputa la morte di Unkar, è devastata come se avesse perso una madre. Le sue lacrime sono un fiume in piena, mentre Shetin e Nazire tentano in vano di calmarla. Mushgan, tornando a casa e vedendo la scena, viene informata da Shetin della notizia che schianta il mondo. Gulten, sopraffatta dal dolore, esce di corsa per andare da Unkar, una tempesta di disperazione, seguita da Shetin e Nazire. Behice arriva, e quando Mushgan le riferisce della morte di Unkar, c'è una fredda dispiacenza nelle sue parole, un gelo che cala nella stanza. Anzi, Behice parlerà dei gioielli scomparsi di Unkar con una leggerezza che taglia, in ricordo di una minaccia passata che rende il momento ancora più teso, più carico di significato nascosto. Behice si allontana, lasciando Mushgan impietrita, senza parole, e un tarlo le si insinua nella testa, una domanda senza risposta, un dubbio che cresce. Fekeli è una figura disperata, un fantasma di dolore, seduto a terra vicino a Unkar, stringendo la sua mano con la tenerezza di chi cerca un contatto con il mondo, dei vivi. Ilmas, vedendo Demir, un volto scavato dalla disperazione, seduto in lacrime con Zuleya, un angelo dolente che lo abbraccia, offre le sue condoglianze, un gesto di rispetto, una carezza in un momento di lutto che avvolge tutto. Fekeli ed Ilmas si recano in giardino, l'aria un velo pesante, carica con il dolore delle condoglianze, un mondo sospeso in un'attesa senza fine. Demir esce dalla villa, le lacrime un tributo silente alla generosità di un Unkar che non c'è più. Ma poi arriva la notizia dell'autopsia, e Demir si accascia, un albero abbattuto, come se avesse subito un altro colpo mortale, un dolore su un dolore. Sanye è straziata, una figura inginocchiata ai piedi di Unkar, abbracciando le gambe come se cercasse ancora il calore della vita, un bimbo sperduto. Amine interviene, una madre protettiva, allontanando lei e Zuleya e cercando di proteggere la figlia. Le parole sono dolci come melodia, le promesse sincere come un giuramento, ma c'è un tono di disperazione, un canto di dolore, che rende ogni gesto un inno al dolore, un lamento silenzioso. E poi nella villa arriva Gulten, un altro cuore spezzato, un altro volto di tristezza, che scoppia a piangere quando Gaffur l'abbraccia, un abbraccio che è un conforto e una ferita. L'ambulanza arriva per prendere il corpo di Unkar, e Amine li vede. Il grido che segue è un urlo primordiale di perdita, un canto di dolore, un grido di lasciarla dormire, di non toccarla. Zuleya e Fadik la trattengono, mentre Sanye è un fiume in piena di lacrime, un dolore senza fine. Unkar viene portata fuori dalla villa, caricata sull'ambulanza, e il mondo sembra fermarsi, un istante eterno. Fekeli, con il viso bagnato dalle lacrime, si avvicina, un passo di addio, mentre Demir si inginocchia in mezzo alla strada, lo sguardo un abisso vuoto, perso nell'ambulanza che porta via un amore eterno, un cuore spezzato. Ma mentre il cortile è immerso nel dolore, un mare tempestoso, Fikret si introduce nello studio di Demir, un fantasma silenzioso, esplorando le memorie e i segreti custoditi nei cassetti, come chi cerca di connettersi con un passato nascosto. Lo vedremo sottrarre dall'ufficio di Demir la famosa lettera, un documento che incolpa Mujgan, un frammento di verità che brucia. La sera cala, un velo scuro, e le scarpe di Hunkar sono fuori dalla porta, seguendo una tradizione turca carica di simbolismo, un rituale che parla al cuore. Amminè prende una scarpa, la braccia, come se cercasse di riscaldare un ricordo gelido, un frammento di un amore perduto. In giardino, la veglia di preghiera diventa un coro di speranza, un inno al cielo, affidando a Dio l'anima di Hunkar. Fekeli, piangendo, si porta la mano sul cuore, un gesto di dolore genuino, una carezza che scotta. Demir, seduto in disparte, riceve un fazzoletto da Husum, un dono di Hunkar, e le parole diventano una dolce carezza, un bisbiglio d'amore, una promessa che Hunkar è diventata un angelo, una stella nel cielo. Demir, commosso, stringe Husum tra le sue braccia, una connessione umana in un mondo sconvolto dal dolore. Intanto, in cucina, la vita continua attraverso le lacrime. Sagné, circondata dalle altre donne, prepara l'alba, un dolce in onore dell'anima del defunto. Ma il compito è troppo pesante, e si accascia a terra piangendo, condividendo il suo dolore con Gulten, Fadik e le altre donne, mentre dall'eco delle preghiere giunge come un suono che sembra un canto di angeli. E così si chiudono queste anticipazioni con uno straziante addio ad Hunkar Yaman, che ora lascia un vuoto incommensurabile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video e vi aspetto nei commenti per parlare di questa puntata.